buon pomeriggio allora iniziamo con la preparazione della mia mimosa ma faremo una variante faremo la torta degli angeli modificata vi dico che cosa serve per fare per fare il pan di spagna degli angeli abbiamo bisogno di io ho fatto doppia dose perché mi serve per l'altezza ok quindi cinque intere e quattro tuorli mezzo chilo di farina 00 caputo naturalmente in pasticceria 30 grammi sono 470 scusatemi 30 grammi di fecola 250 grammi di burro 110 grammi di olio extravergine 360 grammi di zucchero 80 grammi di mandorle sgusciate pelate che comunque triteremo molto finemente quindi non si vedranno nell'impasto e due bustine di pane degli angeli ma adesso iniziamo eccoci qui allora il nostro impasto è pronto adesso lo mettiamo in forno ok a dopo per 40 minuti circa a dopo per 40 minuti circa a dopo per 40 minuti circa Grazie a tutti.